Siamo a Milano, in via Moscati 11, palestra a 360 gemi. Siamo con Luca Lazzarini e presentaci il tuo atleta. Lui è Alan Minia, è un piacere per me averlo nella mia palestra a Milano. È un lottatore olimpionico, ha fatto l'Olimpia di Pechino, si è qualificato quinto e ha deciso di dedicarsi all'MMA. Quindi per questo, da due mesi a questa parte, mi sta dando una mano con le mie lezioni, con i miei allievi per la parte del Brest e dell'MMA e sta tenendo un corso di lotta greco-romana e di lotta libera. Tra l'altro questa palestra è bellissima, è attrezzata a macchinari, vediamo la gabbia per l'MMA, i sacchi per l'MMA, i sacconi, quindi l'area funzionale, sei perfettamente attrezzato e sei in centro a Milano. In centro a Milano, stiamo facendo il nostro meglio. Adesso apriremo il settore agonisti con il nostro elemento di punta che appunto è lento. Perfetto, allora, vediamo un piccolo allenamento, cosa ci fai vedere? Ma vediamo due o tre colpi e poi delle prese classiche della greco-romana, dei suplesti. Grazie Luca, perfetto. Grazie. 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 Grazie a tutti. Attimo. Grazie.